Nei primi due mesi della campagna referendaria di due anni fa, quella che poi determinò la consultazione del giugno scorso, i Club Pannella di Trieste raccolsero oltre 8.000 firme. Oggi, per la nuova campagna referendaria, le firme raccolte sono solo 1.200. Un risultato insoddisfacente che il movimento dei Club Pannella si propone di ribaltare, avviando da oggi e fino al 30 settembre, giorno di chiusura della campagna referendaria, un forcing finale per raccogliere più adesioni possibile. Nel corso di una conferenza stampa svolta sistemano nella sede dell'ANSA, Marco Gentili, Paola Sain e Sergio Aglioni hanno ricordato il contenuto dei 18 quesiti referendari e criticato duramente giornali e televisioni per la scarsa informazione che è stata data sull'argomento. Rimane però il problema, quello della comprensibilità dei 18 quesiti. Il cittadino, se ha gli strumenti adeguati, può riflettere su 18 ma anche su 1.800 leggi che governano l'Italia. Noi abbiamo cercato di selezionare le peggiori leggi che ci governano. Sono quelle leggi che ci hanno portato alla rovina, ci hanno portato al debito pubblico di 2 milioni di miliardi. Queste 18 leggi riguardano la giustizia in principal modo, ci sono 4 referendum sulla giustizia. Ora c'è un'emergenza giustizia. Noi pensiamo che bisogna cambiare le leggi che regolano la giustizia a partire dalla responsabilità civile del magistrato che è stato già votato nel 1987. Ci sono quelle sul sistema elettorale. Sono tutte leggi molto importanti. Io penso che viene offerta questa possibilità al cittadino. Il cittadino può raccogliere questa opportunità. Io penso che questa opportunità sarà raccolta anche dagli operatori del diritto, dagli avvocati, dai magistrati. Gli altri referendum riguardano la legge elettorale per la Camera e il Senato, la regolamentazione dell'uso delle droghe leggere, la smilitarizzazione della Guardia di Finanza, i patti in deroga, la caccia, l'aborto, la pubblicità RAI e l'abolizione dell'ordine nazionale dei giornalisti. Gentili, Sain e Alioni hanno infine ricordato che è possibile firmare tutti i giorni presso le segreterie dei vari comuni e ai tavoli dei Club Pannella, che saranno allestiti domani e sabato in Via delle Torri dalle 16.30 alle 19.30.